Bene, saluta da tutti questi fatti. Ciao! Ciao, Jasi, come stai? Ci sono altre cose da portare? Sì. E come dire? Dante mi ha ovviamente suggerito, eravamo tutti felicissimi di farlo, per quanto non fosse proprio agevolissimo da un punto di vista delle ore di viaggio. 13? 13 ore, capito? Ma a parte di Irol con cui c'è questo rapporto anche un po' speciale e anche di dovere da parte mia di testimonianza, veniamo a vedere anche lui, che detto così, come dicevo. Vediamo a vedere noi. Un cuseo, un ciascuno. Esatto, no? Questo addirittura diventerà un ospedale che a differenza dell'ospedale di Irol avrà una scuola riconosciuta di ostetricia dove verranno formate le ostetrici. E quanti anni durerà la... Due anni e mezzo. Sul Sudan è famoso perché c'è una ostetrica ogni 20.000 mamme che devono partorare. Grazie. 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 Grazie.